Hanno tentato di introdursi in una giureria di vie che roli nei pressi della chiesa del Carmine a Gela utilizzando la fiamma ossidrica alimentata da alcune bombole al fine di scardinare la slaginesca ma qualcosa non ha funzionato e alla fine hanno desistito. E' quanto accaduto la scorsa notte. L'attività presa di mira appartiene al commerciante Rosario Guelli. L'azione malavitosa si è registrata intorno alle 3. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, delle locali di staccamento che hanno messo in sicurezza le bombole e i carabinieri del reparto territoriale agli ordini del Maggiore Antonio De Rosa che hanno avviato indagini febbrili. Requisite le immagini registrate da alcune delle camere collocate nella zona. Sconvolto per l'accaduto il proprietario del locale. Io stamattina avevo aperto e ho trovato qua una macchia tutto bruciato con un cannello e un giravite dentro la busta ho levato questo non... questo ho trovato. Cioè la saginesca leggermente, il blocco della saginesca leggermente taglia, pizzicato da cannello. Lei come legge quello che è accaduto, l'episodio? Non lo so, non lo posso commentare perché non so, io stamattina sono arrivato e ho detto ho trovato con la macchia e un cannello là. Poi aprendo la saginesca e ho accorto che c'è il blocco leggermente pizzicato dalla fiamma. Però i residenti della zona cosa le hanno riferito in merito a quello che è accaduto? Niente, hanno sentito soltanto i pompieri e i carabinieri, basta, non sanno niente. La vedo molto preoccupata. Lei che farebbe? Ma si riesce a commercializzare Gela in merito a quello che sta accadendo? No, no, già siamo fermi perché non si sta facendo niente, io non lo so. È una situazione drammatica per tutti voi? La maggior ragione in merito a quello che è accaduto? No, io non ho fatto niente, non chiedo niente, io faccio il mio lavoro e basta. E con quale spirito riesci a fare questo lavoro? Ora non lo so perché è la prima volta che mi succede una cosa del genere.